Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio parlare di una fotocamera vecchia a cui io personalmente sono molto legato, una fotocamera che io ritengo sia assolutamente valida anche ai giorni nostri. Stiamo parlando della mitica Canon EOS 5D Mark II. Come sicuramente ricorderete questa è una fotocamera che esce nel 2008 per un prezzo che si aggira intorno ai 2600 dollari, quindi ovviamente da noi sarà arrivata con un prezzo abbastanza simile. È una fotocamera ormai ritenuta assolutamente datata. Se ci fate caso il corpo è abbastanza simile se non quasi identico a quello della 5D Mark IV, quindi l'ultima release in ordine di tempo di questa particolare fotocamera reflex che si trova a un punto morto, nel senso che le reflex non vengono più prodotte, ormai siamo passati completamente a mirrorless e quindi le case produttrici hanno dichiarato che questo tipo di fotocamera è completamente fuori produzione. Tuttavia poco prima di mettermi a girare questo video ho fatto una rapida indagine su internet e ho scoperto che la Canon EOS 5D Mark II si trova ancora online, si trova ricondizionata, si trova usata, quindi è una fotocamera che è ancora possibile acquistare. Ora perché io dovrei acquistare una fotocamera così vecchia uscita nel 2008, oggi nel 2022? Beh siamo qui proprio per rispondere a questa domanda. Cominciamo a vedere con che cosa abbiamo a che fare. Innanzitutto lo sportellino per la batteria che ospita la classica batteria Canon LP-E6. Questa batteria funziona anche sulla Canon EOS R, l'ho testata personalmente e funziona senza nessunissimo problema. La Canon EOS R ha una batteria di nuova generazione che consente dei tipi di ricarica diversi, però per quanto riguarda la performance non siamo troppo distanti, queste batterie sono sostanzialmente intercambiabili. Quindi, primo punto a favore, abbiamo la stessa batteria che avremo negli altri corpi macchina che possono già essere in nostro possesso. Questa è la stessa batteria che troviamo sulla 5D Mark IV, è la stessa batteria che io trovo sulla mia Canon EOS 80D, è la stessa batteria che c'è nella Canon EOS R. Quindi diciamo che questa batteria funziona un pochettino per tutto il mio parco camere professionale. È la stessa anche della 7D se ricordo bene, quindi è una batteria che possiamo usare pressoché con tutte le macchine di fascia professionale o semiprofessionale che abbiamo già in casa. Procediamo e andiamo ad aprire il card slot. Qui possiamo alloggiare una singola compact flash. Ora, io non amo le compact flash e vi spiego perché. Andiamo a fare un sound test. Non è male come rumore, vero? Io non amo le compact flash. Vi dico perché. Fondamentalmente la card flash nasce come professionale, nasce come la card dei professionisti, nasce come quella figa, la card che usano quelli che non si abbassano a usare la SD. Ora, però, che cosa succede? Nel corso degli anni, dal 2008 a oggi, la SD card ha un'evoluzione incredibile. Nel senso che abbiamo delle card che scrivono e leggono a delle velocità pazzesche perché abbiamo tutti i droni, per esempio, abbiamo il comparto droni action cam che usano tutti delle SD o delle micro SD addirittura. Quindi abbiamo delle card sempre più piccole perché il drone deve essere leggero, quindi non possiamo avere un alloggiamento per una compact flash su un drone. Quindi abbiamo dei droni con delle card sempre più piccole e sempre più performanti perché i droni girano in 4K, alcuni in 8K, alcuni in 6K RAW. Quindi abbiamo la necessità di avere delle card più veloci e più performanti. Queste card si sviluppano e arrivano al punto di cottura in cui sono, mentre la compact flash rimane esattamente dove si trovava diversi anni fa. Quindi è una card che può essere considerata più professionale perché è più grossa? Secondo me no. È una card che può essere considerata molto affidabile, quindi assolutamente ci sta, non dico che la scarterei. Tuttavia, vuoi per i costi, vuoi per la difficoltà di lettura successivamente allo shooting, io preferisco la SD card. Perché la SD card può essere infilata direttamente in un computer, specialmente se abbiamo un computer Apple, hanno tutti, almeno una volta era così. Forse adesso con le ultime release in realtà il card slot negli ultimi iMac e negli ultimi MacBook non c'è più, però una volta c'era. Quindi diciamo che c'è una facilità di lettura nel momento in cui stiamo usando un SD card perché abbiamo già l'alloggiamento in molti computer, non in tutti ma in molti c'è già. Mentre la compact flash chiaramente avrà bisogno di un adattatore a parte. Non solo, la maggior parte degli adattatori, ho fatto una ricerchina così, la maggior parte degli adattatori servono per leggere SD e micro SD, quindi la compact flash ha bisogno di un adattatore a parte, che ovviamente costa di più perché è più grosso, perché deve avere un vano di alloggiamento più grande. Non sono tutte rose e fiori usare la compact flash. Io vi dico che alcune volte mi sono trovato a dover usare il cavo per estrarre i file dalla mia camera perché ho fatto lo shooting e magari il cliente ti dice ah me le dai subito. non è una buona politica dargliele subito ovviamente, ma dipende dal tipo di cliente. Magari il cliente non vuole la post, magari vuol farsi fare la post da qualcun altro e comunque se insiste e se le vuole possiamo decidere anche di dargliele. Mi sono dovuto trovare a infilare il cavo, estrarre il materiale dalla camera col cavo perché il cliente non aveva chiaramente un adattatore per la flash card, io non me l'ero portato perché non è mia politica consegnare i file immediatamente, quindi diciamo non è agevole lavorare con la compact flash, a me non fa impazzire come card, tuttavia è assolutamente performante. Io devo dire che mentre mi è capitato due volte nella mia vita, due volte nella mia vita di avere un file corrotto, un singolo file corrotto, quindi una singola foto che si era corrotta su tutto lo shooting, mi è capitato due volte, mi è capitato una volta sulla 80D e una volta sulla 6D mi sembra, quindi mi è successo due volte in tutta la vita di avere un file corrotto con una SD card, quindi direi che come percentuale, e ne ho fatte le foto in vita mia, quindi come percentuale è assolutamente misera, assolutamente trascurabile direi, quindi io continuo serenissimamente a usare le SD card in quasi tutte le mie camere, tuttavia devo dire per correttezza che su questa camera non ho mai avuto un singolo file corrotto, quindi se vogliamo essere equi diciamo che a me non piace la flash card, però questa flash card volendo ha performato meglio delle mie SD. Andiamo un attimo a parlare però della camera in sé. Ovviamente stiamo parlando di una camera vecchia, questa camera ha un processore che è un po' indietro perché monta, se ricordo correttamente, un Digic 4, attualmente abbiamo superato il Digic 8 mi sembra, se ricordo bene, quindi è una camera che è un po' indietro di processore e un po' indietro di sensore, ma quando è uscita questa ha settato un nuovo standard di qualità, standard che è stato molto difficile superare perché questa camera era incredibile quando è uscita. Intanto menzione d'onore perché dobbiamo ricordare che la 5D Mark II è stata la prima fotocamera reflex ad avere la possibilità di girare video in full HD, quindi questa è stata rivoluzionaria perché se siete dei fotografi e dei videomaker e comunque utilizzate le vostre fotocamere per fare anche video, questa è la fotocamera da cui si è sviluppato il discorso e che vi dà la possibilità oggi di tenere in mano quello che state usando e di guardare avanti a voi a un futuro luminoso per quanto riguarda la qualità video e le produzioni che state facendo perché tutto quanto è partito da qui. Questa è la prima fotocamera che ha consentito veramente a fotografi e videomaker di buttarsi nel mondo diciamo un po' cinematografico perché è stata la prima che consentiva di realizzare delle belle riprese in full HD con il parco lenti Canon che insomma spostate un attimo che non è mica da buttare via. Stiamo parlando ovviamente di un sensore full frame quindi 24x36, un sensore che ci restituisce una visione all'interno dell'oculare con un 98% di visione quindi andiamo a perdere il 2% di quello che stiamo inquadrando, questo è un problema noto a molti perché diverse camere hanno questa problematica, non è un problema gigante nel senso che basta saperlo, cioè nel momento in cui io faccio la mia composizione mi ricordo che se sto componendo in questo modo ho un pelino di respiro in più su tutti i lati, diciamo che non lo vedo come un problema colossale, anzi in certi casi può anche essere una risorsa perché se sono stato troppo stretto e magari devo stampare e mi serve l'abbondanza, ecco che c'è, quindi può anche essere una risorsa, non lo vedo come un contro così devastante. Per quanto riguarda la messa a fuoco questa camera non è particolarmente performante perché i sistemi di messa a fuoco e i processori non erano quelli di oggi, stiamo parlando di un sistema di messa a fuoco a 9 punti, ora vi dirò, io mi trovo molto bene con la messa a fuoco di questa camera proprio perché ha 9 punti, come la mia 6D, come tante camere che ho, non hanno tutti questi punti di messa a fuoco e vi dico anche una cosa, io ho una 5D Mark 4 quindi ha, non mi ricordo più cosa ne ha di punti di messa a fuoco, non me la sono riguardata, stiamo parlando della Mark 2 adesso, però io ho una Mark 4, ha una miriade assurda di punti di messa a fuoco, sapete io quanti ne uso? Uno, sempre uno solo. Voi direte è perché sei vecchio, è perché sei un fotografo di vecchia generazione, avete ragione, ma ciò non di meno ne uso uno solo e le foto vengono a fuoco lo stesso. Secondo me non dobbiamo tanto concentrarci su avere 8 fantastiliardi di punti di messa a fuoco perché avere tutta quella tecnologia, avere tutti quei punti di messa a fuoco, intanto un po' ci distrae dal risultato. È capitato anche a me di gasarmi perché avevo un giocattolo nuovo super tecnologico e quindi magari dire oh che figata, poi torni a casa e dici ma che porcate di foto che ho fatto, stavo pensando a quanto era bella la camera, non guardavo nemmeno cosa scattavo. Succede, con meno punti di messa a fuoco abbiamo una cosa più essenziale, abbiamo la nostra solita tecnica del focus and recompose, quindi mettiamo a fuoco con il punto di messa a fuoco centrale dove vogliamo che sia il fuoco, poi componiamo il nostro scatto sempre non mollando il pulsante di messa a fuoco, quel punto scattiamo. È efficiente se impariamo a farlo, perché altrimenti che cosa succede? Noi impostiamo un altro punto di messa a fuoco, magari non quello centrale, magari impostiamo questo, benissimo, se il nostro soggetto si trova qui siamo a cavallo, se il nostro soggetto si sposta, se vogliamo ricomporre e fare una verticale, se vogliamo cambiare scenario dobbiamo ogni volta stare lì aspetta e tic 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 tic, aspetta e cambia il punto di messa a fuoco. Secondo me non ne vale la pena, ci rende poco efficienti durante tutto lo shooting, oppure può succedere un'altra cosa che mettiamo i punti di messa a fuoco automatici, ah non guardatemi così, ah i punti di messa a fuoco automatici che schifo, sì sono d'accordo, perché il punto di messa a fuoco automatico che cosa farà? Al di là di alcuni modelli, adesso ci sono i modelli tipo la Canon EOS R che sto ancora testando perché ha tantissime features, è difficile dire l'ho capita tutta, ha così tanta roba dentro, è veramente difficile, ce ne sono alcuni che hanno il face detector e magari hanno il focus sull'occhio, quindi questa è un'ottima cosa, vuol dire che nel momento in cui sto facendo qualsiasi cosa la camera con l'intelligenza artificiale riconosce che c'è una faccia e va a beccare l'occhio, va a beccare l'occhio più vicino perché è brava oltretutto, quindi correttamente non va a beccare se io sono così, non va a mettere a fuoco questo che è l'occhio più lontano, va a mettere a fuoco questo che è l'occhio più vicino, se io mi giro farà il contrario, quindi questo è correttissimo e sulle camere nuove, sulle camere moderne di oggi c'è questo dispositivo, sulle vecchie fotocamere, quindi non le mirrorless diciamo, sulle reflex non c'era questo sistema, per cui la reflex va con un sistema di contrasto e compensazione, va a cercare il punto di messa a fuoco più vicino, per cui se stiamo facendo un ritratto qual è il punto di messa a fuoco più vicino? Il naso, o peggio ancora un arto, perché se io mi metto una mano davanti mi metterà sempre a fuoco la mano invece della faccia, quindi i punti di messa a fuoco automatici sono un disastro, veramente un disastro, mentre io anche se sto facendo una cosa così, vedete io sto facendo il cretino adesso, sto facendo questa cosa qua, ma col singolo punto di messa a fuoco voi potete sempre mettermi a fuoco qui, perché andate a beccare in mezzo e poi ricomponete, quindi io col singolo punto di messa a fuoco me la cavo sempre, con i punti di messa a fuoco automatici è un disastro, cioè li si può usare magari durante una gara sportiva, magari perché la camera è più veloce di noi a mettere a fuoco, quindi se stiamo riprendendo delle Formula 1 che ci passano davanti, forse sui modelli progrediti i punti di messa a fuoco automatici ci salvano, perché lì non ce la facciamo a mano. Ma quanti di voi scattano Formula 1 sulle mani? Ecco, lo sapevo, soltanto due là in fondo. Io nemmeno scatto Formula 1, perché non è facile arrivare a scattare quella roba, ci vuole una strumentazione di altro tipo. Arriviamo un pochino a parlare in soldoni dei motivi per cui secondo me questa camera è ancora attuale. Innanzitutto i megapixel, questa camera ha 21.1 mi sembra megapixel, smettiamola di demonizzare i megapixel, mi raccomando, i megapixel servono, i megapixel servono a tante cose, servono ad avere una risoluzione maggiore, servono a determinare quanto grande sarà la nostra foto, quindi la risoluzione sostanzialmente è la dimensione della nostra immagine. Ovviamente con una risoluzione bassa avremo una foto grande come un francobollo, con una risoluzione alta avremo una foto più grande. Risoluzione non significa qualità, perché nel momento in cui noi abbiamo una risoluzione alta, però usiamo una lente da due soldi magari, avremo una risoluzione alta e una qualità bassa. Se usiamo un bel sensore come questo e ci mettiamo una bella lente avremo sia una risoluzione alta sia una qualità alta. poi dipende anche da cosa e da come abbiamo scattato, perché se abbiamo scattato al buio pesto a ISO 6400 e la foto è pure brutta, lì non avremo una buona qualità anche se abbiamo un'ottima risoluzione e anche se abbiamo una buona lente. Quindi purtroppo non è sufficiente avere l'hardware per dire faccio delle belle foto, ci vuole anche la testa, il cuore e ci vogliono anche le condizioni. Però diciamo che qui le condizioni di partenza sono ottime, perché qui abbiamo una camera con un sensore eccezionale, io vi dico che questa camera ha un sensore, solo il sensore, il processore no, la messa a fuoco no, tutte le altre cose sono migliori sulla 6D per esempio, però questa camera performa meglio della 6D per quanto riguarda il sensore, cioè hai un'immagine migliore e anche in post io mi trovo a magari lavorare delle foto fatte con questa e delle foto fatte con una 6D, me le trovo proprio fianco a fianco e quello che scopro è che su queste foto riesco a essere più incisivo nella mia post produzione, riesco a recuperare più luci, riesco a recuperare più ombre, riesco a maltrattare l'immagine a un livello estremo senza vedere artefatti laddove magari la stessa foto fatta con la 6D, fatta con la 80D, fatta con un'altra camera, magari faccio le stesse identiche modifiche, sottoperformano rispetto a questa, cioè questa ha un file d'uscita più complesso, più ricco, migliore. Quindi nel momento in cui ci troviamo a post produrre delle foto che escono da questa camera sicuramente ci troveremo ad avere un risultato finale con una ricchezza di toni e di colori superiore rispetto a tutte le APS-C ovviamente, anche le APS-C di nuova generazione questa è sicuramente superiore e anche rispetto per esempio alle full frame entry level, quindi questa era fascia professionale all'epoca, per quanto mi riguarda è ancora fascia professionale, nel senso che siamo professionisti sta a noi scegliere quando usarla ovviamente, non porterei mai la Canon EOS 5D Mark II a una gara di moto, perché lì mi sono messo nei pasticci, perché la messa a fuoco non è adatta a un contesto di questo tipo, non ha delle performance adatte a fotografare una cosa così rapida, anche se i fotografi di una volta lo facevano, quindi è possibile. Diciamo che c'è di meglio, avendo io delle camere più moderne porterei un'altra camera in un contesto del genere, non porterei questa, però per quanto riguarda la qualità del file d'uscita siamo lì eh. Prendete per esempio la 5D Mark IV, abbiamo 30 megapixel, quindi sì, abbiamo una risoluzione maggiore, ovviamente il processore è migliorato, il sensore è migliorato, quindi è più bella per carità, è più bella, ma non così tanto, non così tanto e molte feature che abbiamo nel corpo della 5D Mark IV sono superiori rispetto a questa, ma sono features del corpo macchina, non stiamo parlando della qualità del file d'uscita, stiamo solo parlando di bottoni personalizzati, della possibilità di impostare combinazioni di tasti in modo da avere tutto a portata di mano, che sono cose bellissime, fantastiche, che servono, perché nel momento in cui io sto facendo uno shooting mi serve magari passare rapidamente da una modalità all'altra, perché ho due contesti differenti, posso personalizzarmi quali sono quei pulsanti che mi portano da una modalità di scatto a un'altra modalità di scatto, cose completamente diverse, con pochi click e questo mi aiuta tantissimo, perché è personalizzabile sulle mie esigenze, quindi sul mio stile oppure sul mio singolo shooting, quindi questa è una cosa che sulla 5D Mark IV ho trovato veramente eccezionale, veramente una camera incredibile, io non ho ancora trovato una camera migliore della 5D Mark IV, anche se la Canon EOS R ha fondamentalmente le stesse cose, ma è mirrorless, devo dire che comunque sta mangiando il terreno intorno. Torniamo a parlare di questa però, qui abbiamo una qualità foto e video che è assolutamente attuale, anche perché tenete conto che secondo me la qualità foto e video sta facendo dei passi indietro incredibili in questi anni, quindi questa camera performa bene, quindi non è che vi sto dicendo che abbiamo dei problemi e quindi andiamo a compensare perché il mondo sta facendo le cose in maniera più scarna, no non è così, questa camera fa delle foto eccezionali, tant'è che io la uso ancora, l'ho presa usata, devo specificarvi questa cosa, l'ho presa usata perché l'ho presa anni dopo che era uscita, l'ho presa come seconda camera e ormai ce l'ho da, credo di avercela da 7 anni, sì sì da 7-8 anni ormai, è una camera che funziona ancora benissimo nonostante l'abbia presa di seconda mano, è un carro armato, era costruita bene, quindi le costruzioni di una volta sono migliori di quelle di adesso, rispetto a una camera moderna, una mirrorless, se cade in terra una volta è in mille pezzi, questa non vi dico che la butterei dal quinto piano con serenità perché no, però questa secondo me se si fa una caduta funziona ancora, non chiedetemi nei commenti di fare il test di farla cadere perché non lo faccio, piccola, non li ascoltare, non lo facciamo questo test, però io sono convinto che sia una camera che regge abbastanza bene anche gli urti, è una camera costruita in maniera molto solida, per quanto riguarda poi le features del corpo macchina non sono neanche scarne perché comunque abbiamo tutti i classici bottoni che avremo sulla 5D Mark III e Mark IV, abbiamo addirittura il joystick, quindi la cosa di cui tutti si sono lamentati sulla Canon EOS R che manca il joystick, beh qui c'è, ovviamente non c'è il display touch, vi dirò che io non sono un amante dei display touch per una serie di motivi, innanzitutto perché quando andiamo a toccacciarli si sporcano e quella è una cosa che a me fa impazzire, cioè io non voglio vedere il display sporco, doverlo continuamente pulire è una cosa che odio, quindi cerco di usarlo il meno possibile, preferisco usare i tasti, io tendo ad avere uno stile fotografico che usa dei parametri abbastanza fissi, cioè mi piace avere dei punti saldi che sono sempre quelli, quindi tendo a fare poche modifiche, ho delle impostazioni standard che uso pressoché sempre quelle, quando accedo ai vari menu lo faccio per, sì, cambiare il volume se sto registrando video, quindi il volume lo devo cambiare perché lo devo impostare, quello mi serve, vado ad aprire le opzioni del bracketing se sto scattando in bracketing, più o meno basta, ogni tanto mi capita magari di andare dentro nelle opzioni del flash perché magari ogni tanto ho un flash che si inchioda, allora devo andare dentro nella camera perché magari è settato su lampo spento, quindi devo andare a rimpostarlo, però tendenzialmente non girovago per i menu e anche durante lo shooting se devo far vedere una foto al cliente preferisco fargliela vedere piccola in maniera tale che abbia comunque la panoramica ma senza andare a zoomare e tendo anche a impedire che siano i clienti a toccacciare tutto e a fare cose perché sì ragazzi, perché io quando vado al ristorante non mi metto a mescolare il minestrone dello chef per vedere che cosa ci ha messo dentro e quindi parimenti se sto fotografando io la camera ce l'ho io e ti faccio vedere io e decido io che cosa vedi. Vi dico velocemente che oltre al joystick abbiamo le due ghiere classiche, quindi abbiamo la ghiera davanti che tendenzialmente serve per i tempi di scatto, la ghiera dietro che tendenzialmente serve per l'apertura e abbiamo il classico bottone sopra che serve per gli ISO, quindi abbiamo con una mano veramente tenendola in una mano sola io posso controllare tutti quanti i parametri perché ho i tempi sull'indice, il diaframma sul pollice, bottone e posso regolare gli ISO con il bottone, quindi tenendola con una mano sola io posso fare l'esposizione tranquillamente su questa camera che è una cosa da non sottovalutare, alcuni modelli magari di mirrorless magari poco evolute o comunque anche evolute ma comunque che hanno fatto delle scelte diverse hanno magari queste impostazioni sul display touch, questo secondo me è un incontro gigantesco per queste camere perché ok sono nate per un mercato dove scattano tutti in automatico, lo sappiamo, ormai scattano tutti in automatico, full automatic, nessuno le usa più le impostazioni della camera perché non c'è tempo, perché la foto deve essere su instagram ieri e quindi l'importante è fare pum 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 e buttarla fuori, ma noi siamo qui per fare la differenza in questo, noi siamo qui perché un cliente dica ciumbia questo qui non ci ha fatto un lavoro pum 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 e caricare, questo qui ci ha messo un po' di più però queste foto le teniamo su per dieci anni magari sul sito web quindi stiamo facendo un'altra cosa e con una camera come questa stiamo facendo un'altra cosa, stiamo facendo questa cosa qui, stiamo lavorando sulla qualità, stiamo lavorando di fino, non stiamo lavorando sulla quantità perché poi è una camera abbastanza lenta se è per quello, non è rapida cioè non ha il wifi integrato, non possiamo mandarci le foto direttamente sul telefono, non è una fotocamera da portare a una festa di compleanno dove poi il padrone di casa vuole le foto la sera stessa perché dobbiamo tornare a casa, infilarle nel computer e dargli una lavorata, i file raw saranno molto grezzi, saranno molto grigi quindi dovremo sicuramente dargli una lavorata, ovviamente io vi sconsiglio di scattare in jpeg però effettivamente se siete in quel contesto della festa di compleanno di qualcuno lì si può scattare in jpeg e gli consegnate i jpeg direttamente, questo si può fare. Dicevo non è una camera particolarmente veloce nemmeno per quanto riguarda la raffica, ora qualcuno va matto per la raffica, io mi ricordo, vi voglio raccontare questo episodio perché a me ancora fa morire da ridere. Mi è capitato di lavorare per Canon come promoter quindi sostanzialmente stavo in un punto vendita prima a San Giuliano Milanese dopodiché quando si sono accorti che io a San Giuliano Milanese quasi vendevo più fotocamere del loro promoter in Duomo mi hanno spostato e mi hanno messo in Duomo. In questo caso stavo lavorando alla FNAC di Via Torino, non so se qualcuno se la ricorda, se c'è qualcuno vecchio come me o di più se la ricorderà, era un negozio bellissimo che purtroppo ha chiuso. Lavoravo alla FNAC di Via Torino come promoter per Canon e c'è stato un signore che si è presentato più e più volte, aveva una Sony, me lo ricordo ancora, tenete conto che non erano ancora uscite le varie Sony Alpha, stiamo parlando di Sony Bridge, quindi erano delle fotocamere piccoline, abbastanza performanti, di qualità assolutamente non eccelsa, cioè erano delle fotocamere che funzionavano ma che non avrei consigliato pressoché a nessuno. Questo signore, perché aveva anche una certa età, entrava con la sua Sony e io mi ricordo che lo capivo quando entrava, perché sentivo sempre questo rumore, sentivo e capivo che stava arrivando lui, perché lui faceva questa cosa, lui entrava fotografando tutto, cioè privacy, cosa, una volta non si badava a queste robe, lui entrava a raffica proprio, fotografava tutto, fotografava i commessi e le commesse che lavoravano, fotografava i clienti, fotografava me che stavo lì nel reparto, fotografava la merce esposta, tutte cose che erano assolutamente vietate anche allora ovviamente, ma per una questione di politica del punto vendita, se non per la privacy. Per la privacy una volta non eravamo bacchettoni come adesso, una volta mi facevi una foto per la strada, ma tienitela, chi se ne frega, oggi invece siamo tutti lì a dire no, mi hai fotografato, siccome io ho una reputazione digitale, allora non puoi pubblicare. Dai. Comunque, lui entrava fotografando tutto e facendo raffiche, poi veniva da me, diceva salve, mi ricordavo anche come si chiamava, perché a un certo punto veniva un giorno sia uno no, io facevo il promoter per Canon, quindi in teoria io avrei dovuto vendere solo le fotocamere Canon, ovviamente se uno veniva lì e mi parlava di una Sony, dico guarda, se ho un altro cliente che vuole Canon devo servire l'altro cliente, però se in questo momento non c'è nessuno, le faccio anche due chiacchiere con te sulla Sony. Diceva no, perché sa queste Canon è perché non hanno la raffica, vede? A me piace la raffica, vede? Trrrr, e me la sparava in faccia, mi faceva vedere, vede trrrr, che io ero lì così, dicevo sì, bello. E tutto fiero mi raccontava, lo sa, io quando esco vado in giro con questa camerina, che era la Sony non mi ricordo cosa, era una Sony arretrata, era vecchia, ci stiamo parlando di diversi anni fa, non era bella come una Sony Alpha di adesso, quindi era una camerina piccola. Beh, insomma, era tutto fiero e mi diceva, lo sa, io quando esco con questa vado in giro, faccio il giro dell'isolato, magari vado al bar, faccio le mie cose, poi vado in ufficio, vabbè, in ufficio non la uso, poi esco, pausa pranzo e ancora faccio foto. Poi la sera quando esco, prima di tornare a casa, ancora faccio delle foto, io torno a casa, che ho fatto 1300-1500 foto al giorno, pensi? Era tutto contento. Io a quel punto avevo la faccia dell'orrore più puro e sconsolato e ho annuito e gli ho detto, è incredibile, facciamo finta che si chiami, è incredibile signor Ernesto, è meraviglioso, ho le lacrime. Cioè 1500 foto al giorno fatte così con la raffica, fregandosene proprio di quello che uno inquadra. E poi, cioè, il bello è che poi uno torna a casa, se le riguarda tutte, e il giorno dopo lo rifà. Cioè questa, secondo me, è anche un po' una mancanza di senso critico, nel senso che, va bene, hai documentato minuto per minuto la tua giornata facendo la raffica tutto il giorno, ma sono tutte foto che butti via. Questo voglio dire. Quindi, quando vi parlo di velocità, e vi volevo parlare appunto della velocità di scatto di questa camera, allora innanzitutto, questa camera, come quasi tutte le fotocamere, va da 30 secondi di esposizione fino a un 8 millesimo di secondo di esposizione. Quindi i tempi standard classici, con i soliti incrementi che possiamo anche regolare. Il punto però qual è? Non è molto performante sugli scatti al secondo, perché la Canon EOS 5D Mark 2 vi fa solamente, si fa per dire, 3.9 scatti al secondo. Sono tanti, sono pochi, io vi posso dire che la 70 ne fa 7, la maggior parte delle camere che ho io ne fa di più. Se magari in questo momento state tenendo in mano una miraglia ve la starete ridendo e starete pensando la mia ne fa 14 di scatti al secondo. Ragazzi, sono tutte belle cose, però vi ho raccontato l'episodio del signore Ernesto per farvi capire delle cose. Non ha importanza quanti scatti al secondo fate se poi sono tutti da buttare via. Cioè, se abbiamo una camera performante sulla velocità, ma poi fotografiamo la fermata dell'autobus, non me ne voglia chi fa street photography. L'ho già detto in un altro video, per quanto mi riguarda la street photography ormai è sostanzialmente la pattumiera della fotografia, nel senso che una volta aveva senso. Cioè, Henri Cartier-Bresson ci ha raccontato degli spaccati della nostra cultura facendo delle fotografie, non dico a caso per la strada, però poco ci manca, nel senso che stava seduto al bar e aspettava che succedesse qualcosa di interessante. Una volta faceva effetto perché nessuno le aveva ancora fatte quelle cose lì. Quindi se sei il primo, sei un pioniero, un innovatore, tutti quanti si ricordano di te. Oggi, se ti metti a fotografare la fermata del tram, stai facendo delle porcate inenarrabili, perché non ci stai raccontando più niente, l'abbiamo già vista quella roba lì. Infatti oggi la street photography ha valore solo ed esclusivamente se vai in Asia, se vai in Birmania, se vai in Thailandia, se vai in India, lì fai street photography e lì io stesso dico, mazza oh, che belle foto. Mi è capitato tempo fa di avere una direttrice, Lucia Vastano, che non guarderà mai questo video, quindi la saluto anche, tanto non lo vede. Lei si recava spesso in quei posti lì, è stata mille volte in India e lei andava con una camerina del cavolo, che era una Sony Bridge, una Coolpix, non mi ricordo cosa, ma una camera da 5 megapixel, quindi risoluzione bassa, qualità bassissima, lentino proprio, fondo di bottiglia, rispetto a quello che abbiamo adesso e rispetto a una 5D era ben altra cosa. E lei mi ha sempre detto, vedi, non importa che fotocamera hai, perché io con questa camerina del cavolo vado in India e faccio delle foto più belle delle tue. E io ci rimanevo un po' scottato da questa cosa, ma fondamentalmente aveva ragione, perché io ero molto giovane, quindi lei ha una certa età, l'età di mio padre, quindi era più avanti ovviamente, aveva fatto ben altre cose, era più consapevole di quello che faceva e con quella camerina andava in India e faceva delle signore fotografie, faceva una ottima street photography. Ma perché? Perché è quello che stai raccontando che fa la street photography. Se tu vai alla fermata della 91 e ti metti a fotografare la sciurapina che scende con il foulard in testa e il sacchetto della spesa che è andata al mercato a prendere le verze, non mi stai raccontando proprio un tubo di niente. Se invece vai in India e fotografi un santone con il puntino rosso che sta fumando degli allucinogeni, è cavolo, quella è una bella storia, è una cosa a cui non siamo avvezzi e quindi viene fuori automaticamente una bella foto. Fare street photography a Milano, secondo me, è completamente inutile, ma non perché è Milano, ma perché Milano è già instagrammata, l'abbiamo già vista, cioè il valore, il valore culturale di quello che stai raccontando è pari a zero. Cosa fai street photography a Milano? Cioè la gente fotografa in questo periodo, stanno fotografando tutti i fiori perché è primavera, quindi bisogna fotografare i fiori. Quella è una cosa che mi racconta uno spaccato di cultura del mio paese, della mia città. Quello ha un senso. Però obiettivamente mettersi a fotografare l'addetto del mercato orionale che a fine giornata tira il secchio d'acqua in terra e pulisce il marciapiede con lo scopettone è una cosa che nessuno vuole vedere, quindi è una cosa, a mio parere, che non ha più alcun valore. Se si vuole fare street photography non si può scendere di casa e pensare di immortalare il vicino di casa col cane. Tutto questo pippone allucinogeno, per dirvi semplicemente questo, questa camera ha 3.9 frame al secondo di scatto continuo e chi se ne frega, perché la maggior parte delle fotografie che hanno fatto la storia recente della fotografia è stata scattata con macchine come questa. Io non lo so quante fotografie che sono passate alla storia recente, dicono noi siamo una società astorica ormai, però nella storia della fotografia recente io non lo so quante foto sono state scattate da una camera di questa generazione rispetto a quante sono state scattate con un cellulare o con una mirrorless. Secondo me sono di più le grandi fotografie scattate con un'attrezzatura un po' indietro di cottura rispetto a quelle più moderne. Più andiamo avanti, più è difficile che una fotografia passi alla storia, perché i fotografi sono sempre di più, la competizione è sempre più alta, chi abbia un cellulare è un fotografo ormai. Lo sapevate che ormai è sufficiente aggiungere fotografo dopo il vostro nome su Instagram e siete fotografi in automatico? Ovviamente sto scherzando e sto prendendo in giro la mia professione, ma ormai sta diventando così un po' per tutto. Le poche professioni che sono esentate da questa cosa sono forse i poliziotti e i chirurghi, nel senso che se tu ti scrivi ufficiale di polizia o chirurgo sul tuo account di Instagram, lì potresti quasi essere passibile di denuncia, perché stai millantando un credito che non hai, ma per il fotografo invece lo puoi fare. Cioè se uno si scrive fotografo dopo il nome lo può fare, perché il fotografo è un po' come se da un lato non fosse considerata una professione e dall'altro uno dice vabbè ma non sta facendo niente di male, non fa male a nessuno spacciandosi per fotografo, non può fare danni. Cioè io se mi sto spacciando per un poliziotto faccio danni, perché magari sto dando indicazioni errate o magari sto intascandomi una tangente e fingo di essere un poliziotto quindi non va bene. Se fingo di essere un medico magari faccio del male al paziente quindi quello viene sanzionato. Ma lo dico per chi è a casa che magari ha questo timore, voi potete fingervi fotografi o videomaker tutte le volte che volete perché non è sanzionabile, nessuno vi dirà niente. Al più qualcuno si lamenterà quando non gli consegnate un lavoro fatto bene, però diciamo che quello diventa un problema etico vostro e economico del vostro cliente. Perché siamo finiti a parlare di questo? Io vado off topic, avvisatemi quando vado off topic, mi fate un cenno e dite oh Ferrari, basta eh. Torniamo a parlare della nostra amica. Ovviamente abbiamo la piena compatibilità con tutto il parco di lenti EF. Attenzione, le lenti EFS non vanno su questo corpo. Le lenti EFS sono le lenti Canon per APS-C. Ovviamente abbiamo un numero spropositato di lenti compatibili di produzioni di terze parti, quindi le stesse lenti che state usando sulla vostra 5D Mark IV montano tranquillamente anche su questa. Le lenti che state usando sui vostri APS-C non montano su questa. Tenere conto questa cosa perché se avete una una fotocamera APS-C entry level e state pensando di dire passo alla full frame e le mie lenti rimangono tutte buone, controllate che siano lenti EF e non EFS. Quindi lenti Canon della fascia professionale e non della fascia APS-C perché altrimenti poi avete problemi che non vi funzionano. Viceversa se avete delle mirrorless, se avete delle mirrorless come per esempio io ho la Canon EOS R, le lenti RF non montano su questa camera. Quindi da quel punto di vista potremmo avere qualche problema di compatibilità perché magari se siamo già dentro nel mercato mirrorless, abbiamo già delle lenti mirrorless, non saranno più compatibili. Dovremmo quindi dotarci di una vecchia ormai lente EF da montare su questa camera. Io qui per esempio ho montato il 17-40mm, è una lente che tutto sommato mi piace molto. È una delle prime lenti che ho comprato, pensate, credo che sia stata la prima lente di serie L in assoluto che ho comprato in vita mia. L'ho comprata perché è la lente di serie L che costa meno in assoluto. Si fanno delle scelte anche sbagliate nella vita e alle volte si fanno delle scelte di prezzo pur andando su una cosa di assoluta qualità. In questo momento io sto usando la 17-40mm e la 16-35mm su due corpi camera differenti. Ovviamente 16-35mm f4 stabilizzato è una lente superiore a questa, infatti costa più del doppio se ricordo bene. È una lente assolutamente superiore sotto tutti i punti di vista. Ciò nonostante questa lente funziona benissimo e soprattutto funziona benissimo in abbinamento con questo corpo macchina perché sono due pezzi che non sono tanto distanti negli anni per release, quindi vanno molto d'accordo messi abbinati insieme. Per chi è questa camera? A chi la consiglio questa camera? Allora sicuramente vi sconsiglio di acquistare una camera adattata come questa se dovete fare cose dinamiche in velocità e ve la sconsiglio anche se dovete fare video perché è vero che è stata la prima fotocamera reflex a introdurre la possibilità di girare video in full HD, ma è vero anche che il procedimento era abbastanza rudimentale. Infatti questa camera nativamente non vi consente di girare con le impostazioni manuali di esposizione durante il video. Bisogna scaricare un aggiornamento di firmware e vi dico che io ho preferito non farlo per due motivi. Il primo è che ho fatto fatica a trovarlo questo aggiornamento di firmware, quindi è una cosa vecchia ed non è facilissima da trovare. Il secondo motivo è che essendo una fotocamera un po' datata con un firmware che funziona mi sono detto ma io ho così bisogno di fare video con questa camera? No, perché io uso la 80D per fare video la maggior parte delle volte e adesso uso la Canon EOS R per fare video, quindi io non avevo bisogno allora di fare video su questa, non ne ho bisogno neanche adesso, quindi ho detto non vado a rischiare di caricargli su un firmware che non so cosa cambia, non so cosa fa, magari mi dà problemi la devo mandare in assistenza, è un peccato dover mandare in assistenza una camera usata del 2008 che funziona benissimo per un problema di firmware, quindi ho deciso di non farlo. Se volete girare con le opzioni di esposizioni manuali su questa camera lo potete fare, però dovete installare questo firmware e quindi dovete cercarvelo e andarvelo a installare. Io vi sconsiglio di farlo perché questa è una fotocamera, performa molto bene sulle fotografie, non è così performante sul video, vi dà comunque un file di uscita decente, però tra gamma dinamica e messa a fuoco non è performante come quelle di oggi, la Canon EOS R gira in 4K, gira in log, in formato C-log, quindi ci dà delle possibilità in post-produzione di color correction che erano inimmaginabili nel 2008, quindi vi sconsiglio di usare questa camera per fare video, vi consiglio di usarla per fare fotografia e soprattutto vi consiglio di usarla per fare fotografia su treppiede, quindi nel momento in cui dobbiamo riprendere un contesto dinamico, rapido, dove c'è gente che passa, auto di Formula 1 che ci sfrecciano davanti, eventi dove ci sono ospiti che si alternano sul palco con le luci basse, questa fotocamera non è il massimo della vita, è un sistema di messa a fuoco un po' obsoleto che sicuramente ci mette un po' in difficoltà. Nel momento in cui viceversa scattiamo su cavalletto e stiamo scattando magari paesaggio, oppure stiamo scattando interni, real estate o fotoprodotto, still life, ecco che questa fotocamera diventa veramente uno strumento potente, perché nonostante i pochi punti di messa a fuoco, perché abbiamo nove punti di messa a fuoco, come vi dicevo sono più che sufficienti per coprire il 100% dei generi fotografici che andrete a fare, sono comunque pochi. Abbiamo i nostri nove punti di messa a fuoco, ma nel momento in cui noi ci mettiamo su cavalletto e stiamo scattando AF8, quindi siamo anche in studio per fare ritratto, va benissimo. Nel momento in cui scattiamo AF8 e non dobbiamo più preoccuparci della gestione dei tempi, perché magari siamo su cavalletto, quindi possiamo arrivare fino a 30 secondi se non abbiamo abbastanza luce, oppure perché siamo in studio e quindi abbiamo la luce controllata, aumentiamo la potenza dei nostri illuminatori se non ci basta la luminosità. Quindi in quel momento in cui non dobbiamo più preoccuparci dei tempi di esposizione e possiamo lavorare a f8 con gli ISO abbastanza bassi, possiamo veramente tirare fuori delle foto eccezionali da questa camera. Vi dico per esempio che io la uso correntemente per fare fotografia di interni real estate soprattutto, paesaggio no perché paesaggio spesso e volentieri sono in giro con la 6D e quindi uso il 16-35, però molto spesso potrei usare anche questa, sarebbero quasi intercambiabili perché se io sto scattando sul cavalletto e uso il bracketing, una nota che vi faccio, il bracketing su questa camera prevede due stop di intervallo, mentre sui modelli più recenti sono tre stop di intervallo, quindi si va da meno 3 a più 3, qui si va da meno 2 a più 2, quindi abbiamo un pochino meno di gamma dinamica con cui poter giocare. Questo ve lo dico, ma vi dico anche che il 90% delle volte quando io faccio bracketing sto a due stop, anche sui modelli che mi consentono di arrivare a tre, quindi non è un grosso problema. Sui modelli recenti ci hanno dato un po' di margine in più, ma spessissimo non lo si usa. Dicevo, camera assolutamente performante se stiamo lavorando su tre piede, quindi nel momento in cui stiamo facendo foto di interni, ovviamente in bracketing perché io le faccio sempre in bracketing in questi casi, oppure stiamo facendo paesaggio e anche lì usiamo il bracketing perché così riusciamo a casa in post produzione a tirare fuori una fotografia HDR con una profondità, con dei toni e dei colori che sono molto migliorati, sono espansi rispetto al singolo file. Stiamo sostanzialmente andando oltre quella che è la gamma dinamica della nostra fotocamera, quindi stiamo catturando cose che la nostra fotocamera nativamente non è in grado di vedere. Stiamo catturando le alte luci in una foto sottoesposta e stiamo catturando le ombre in una foto sovraesposta e poi le stiamo mettendo insieme tirando fuori un'immagine che è più ricca di quello che la nostra camera ci consentirebbe di fare. È una cosa che si fa, tant'è che esiste la funzione bracketing, quindi non è barare, non è nemmeno brutto aver post prodotto una foto a casa secondo me perché se ci pensate quando c'era la pellicola c'erano i pennellini per andare a rimuovere le imperfezioni, quindi la post produzione si fa dall'alba dei tempi e chi vi dice che la foto deve essere così come è stata scattata, secondo me se la sta solo contando su perché o è pigro e non ha voglia di fare la post oppure non è capace di farla. Sono sempre quelli i due motivi. Quindi secondo me se state facendo della post state migliorando il vostro prodotto e state migliorando voi stessi e il vostro lavoro e state consegnando al cliente un lavoro migliore. Non è che la post non vada fatta, ovviamente va fatta con consapevolezza. Avevo fatto un video per quanto riguarda la regola del 20, è una buona regola da tenere a memoria quando si fa della post produzione e recita sostanzialmente così. Nel momento in cui post produciamo una foto, se la foto è scattata bene, qualunque regolazione noi andiamo a fare non dovrebbe superare il 20%. Cioè è difficile che su una foto scattata bene io gli debba dare più del 20% di luci o più del 20% di ombre o più del 20% di saturazione o più del 20% di qualsiasi altra cosa. È difficile. Ovviamente può succedere, esistono dei casi estremi soprattutto in bracketing, soprattutto in HDR dove magari ho bisogno di recuperare tanto. Però normalmente su una fotografia normale ben fatta non andrò quasi mai a eccedere la regola del 20% o comunque lo farò consapevolmente ripetendomi a cavolo sto superando il 20% stiamo attenti perché nel momento in cui noi andiamo a fare delle modifiche che superano il 20% esponiamo un po' al fianco a una modifica invasiva che poi è visibile dall'osservatore. L'osservatore non andrà mai a dire qui è stata fatta una modifica però avrà quella sensazione un po' di artificiale perché comunque quello che vediamo con i nostri occhi ci restituisce una certa sensazione e quando noi eccediamo la regola del 20 andiamo a perdere quella sensazione di realtà in molti casi, non in tutti ma in molti casi. Quindi quando eccediamo il 20 stiamo attenti di farlo con consapevolezza e solo se serve il nostro scopo altrimenti torniamo indietro. Tirando le somme, fotografia di ritratto, fotografia still life, fotografia di prodotto, interni, real estate, vengono tutti molto molto bene con questa fotocamera. Ovviamente con questo non voglio dire che sia così poco versatile da non poter scattare a mano libera perché lì dipende anche dalla lente che abbiamo montata. Se abbiamo montato una lente stabilizzata sarà la lente a dare la stabilizzazione alla nostra fotocamera e quindi potremo scattare in tutta tranquillità anche a mano libera. Io vi dico che preferisco usare questa camera su cavalletto perché la uso fondamentalmente solo per fare generi fotografici che scatto su cavalletto. La uso quasi esclusivamente per fare ottima fotografia real estate e ottima fotografia di interni e di paesaggio e di architettura. Quindi questi sono i generi fotografici che io vado a coprire con questa camera. Non la uso per fare prodotto ma semplicemente perché per fare prodotto io uso la PSC. Per fare fotoprodotto io sto ancora usando la Canon EOS 7D con il 100 mm macro e sto usando a volte il mio muletto che è una Canon EOS 700D con il 50 mm f1.4. Quindi uso queste due per fare fotoprodotto e questo è il motivo per cui non utilizzo questa perché con questi corpi macchina con cui ho fatto degli abbinamenti di lente che mi piacciono e che mi danno quello che voglio io sono pronto a fare un genere piuttosto che l'altro semplicemente acchiappando una camera piuttosto che un'altra quindi faccio pochi cambi lenti perché ho trovato delle combinazioni che mi soddisfano sempre. Questa camera andrebbe benissimo anche per fare foto still life anzi performerebbe molto molto bene perché originariamente si faceva foto still life con camere come questa e la maggior parte delle foto di still life che hanno fatto la storia della fotografia still life digitale sono fatte con camere come questa o magari superiori magari c'erano di mezzo delle Hasselblad e cose del genere ma non mi sorprenderebbe per niente scoprire che questa camera ha messo alla luce moltissime foto che avete visto sui giornali e riviste. Detto questo io non voglio convincervi a comprarla subito immediatamente oggi anche perché magari ce l'avete già magari avete già di meglio ci tengo soltanto a sottolineare il fatto che questa camera con tutto quello che ci dà quindi un sensore full frame abbastanza performante comunque una gamma di iso che va da iso 100 a iso 6400 che è tutto quello che vi servirà in vita vostra ricordatevi sempre che se state scattando a iso 100 2000 c'è un problema grosso se state scattando con gli iso così alti c'è un problema grosso e il problema è che non avete saputo allestire una scena che andasse bene non avete saputo gestire il contesto in cui state scattando oppure ovvio che se siete in strada di notte c'è un evento clamoroso di cronaca che dovete riprendere in quei casi certo vi fa comodo però in quei casi avremo comunque una foto piena di rumore una foto che non è una foto di qualità ma è una foto che documenta un momento a quel punto è ovvio che se avete fotografato l'omicidio kennedy le foto dell'omicidio kennedy fanno schifo fanno veramente schifo a livello di qualità quindi a quel punto fa niente se la qualità non è alta è un evento storico la qualità fa schifo ma documenta una cosa che tutti ci ricordiamo e a quel punto non importa se avete iso 100 2000 secondo me con iso 6400 ce la si cava sempre non andrei mai oltre iso 6400 cioè proporre uno shooting scattato a iso superiori di 6400 significa per quanto mi riguarda essere poco professionali non aver capito come funziona la propria attrezzatura ci può magari essere il contesto dove siamo obbligati a farlo dove magari il cliente vuole quel tipo di granulosità e di rumore nella foto si può essere non vi dico che un professionista preferirebbe farsi tagliare una mano che scattare a iso superiori di 6400 però quasi quindi questo semplicemente per dire che la sensibilità iso di questa camera è assolutamente sufficiente a lavorare anche nel 2022 con tutto questo elogio che vi ho fatto di questa fotocamera sostanzialmente vi ho detto solo i punti di forza no non è vero vi ho detto che la messa a fuoco è un po' lenta gli fps non sono molto performanti il video non è esattamente scattante come ai giorni nostri è un po' gnocca magari non è come le fotocamere moderne non è touch non è smart non è niente di tutto questo è un po' gnocca è concezione vecchia però se la sapete usare e comunque imparare a usare una camera come questa è come imparare a guidare col cambio in manuale dopo guidare col cambio automatico è più facile e comunque hai un pezzo in più perché sai anche delle procedure dei funzionamenti che poi in automatico perdi quindi secondo me conviene aver studiato su camera come questa io addirittura ho iniziato a pellicola pensate voi quindi ho in mente cosa succede dentro una fotocamera durante tutta una serie di momenti critici dello scatto che poi vengono riportati uguali nel digitale però sapere com'era originariamente qual è il pensiero che ha portato a quel procedimento in digitale ti aiuta a ragionare a pensare a prendere delle decisioni ovviamente acquistare questa camera non vi aiuterà a prendere delle decisioni ma vi darà uno strumento molto molto valido per realizzare ottime foto anche nel 2022 con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti